Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da questo libro, ovvero sia Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, scritto da Francesco Filippi edito da Bollati Boringhieri. Allora, un libro che ho comperato qualche giorno fa, che ho letto di un fiato e che trovo a dir poco eccezionale per la sua tagliente e ripeto non trovo un aggettivo migliore che tagliente per definire l'analisi che fa del fascismo il professor Francesco Filippi. Allora, una delle tante bufale che gira su Mussolini è quella che lo vuole condottiero e statista. Mussolini è stato un grande condottiero, ha reso l'Italia grande e rispettata da tutti. Parliamone perché leggiamo un po' che cosa ci dice il professor Filippi. Quindi, prestate orecchio, signori. Anche se il militarismo fascista ha dato ampie prove della sua inconsistenza, inconsistenza, praticamente in tutti i teatri di guerra c'è ancora una parte dei fan postumi, e sottolineo postumi, del regime, cioè avete nostalgia di qualche cosa che non avete conosciuto? Siete dei poveracci. Io sinceramente non ho conosciuto la Russia di Stalin ma non ne ho la minima nostalgia, contrariamente a certi altri. Vabbè, lasciamo stare. Dicevo, una parte dei fan postumi del regime sostiene che il suo sistema bellico non fosse così pessimo come i disastri in Africa, Asia, Europa orientale e occidentale fanno sospettare. Una delle marine da guerra più grandi del mondo e un'aviazione che prima della guerra inanellò una serie di record, fanno a tutt'oggi dire a una certa parte degli odiatori dell'internet che poi così male le armi del luce non dovevano essere, e che comunque la colpa non poteva essere di Mussolini ma dei subordinati che non seppero gestire la guerra. Allora, si potrebbero trovare molti modi per cercare di capire se Mussolini ebbe mai le qualità del capo militare. In questo la propaganda del regime ha negli anni costruito un solido mito fatto di divise e parate scenografiche, la confusione fra forma e sostanza insomma, che sembra aver legato per sempre la figura del duce a quella del capo militare, oltre che politico del sistema fascista. Lo stesso termine duce deriva dal latino dux, titolo d'onore riservato ai comandanti vittoriosi così come ai grandi amministratori civili romani. Mentre si prova a capire che cosa si intenda con la definizione di grande condottiero, si può provare a inquadrare quale fosse il rapporto tra Mussolini e l'ambiente militare. Allora, come ben sapete, Mussolini a 19 anni emigrò in Svizzera per fare il renitente alla leva, disattendendo l'obbligo di leva. All'epoca Mussolini era un agitatore politico-socialista ed era tutt'altro che un guerra fondaio. Ed evitò, evitò allegramente quel servizio militare di servizio alla patria che poi, quando divenne il capo del regime fascista, propagandò come sacro. Allora, questa prima sincera fuga dal militarismo fu compensata in parte quando Mussolini, per ragioni di opportunità, decise di partire volontario per la grande guerra, un gesto simbolico che non gli fu richiesto e che lo portò in trincea. Raggiunse il grado di caporal maggiore, ma tentò di fare il corso da ufficiale, ma fu respinto. Rimase anche ferito per lo scoppio occidentale di un mortaio e non in combattimento, ma questo gli valse il congedo e la possibilità di freggiarsi del titolo di Reduce Combattenti. Questa esperienza gli venne molto utile nel dopoguerra per accreditarsi presso i Reduci e gli Arditi, che erano la base dello squadrismo. Un'evoluzione, diciamo una giravolta, rispetto alle prime idee socialiste che testimonia la complessità del rapporto tra il futuro Duce e gli affari militari. L'attenzione di chi sui social inneggia al festival ai fasti militari del fascismo si concentra sulle presunte vittorie della macchina bellica fascista, sostenendo che il ventennio fu un periodo di gloria per le armi italiane. Non è bastata la conduzione colpevolmente fallimentare della seconda guerra mondiale per togliere al fascismo l'aura di movimento militare capace e organizzato. Per vent'anni l'intento del regime fu quello di plasmare il popolo italiano secondo i dettami della forza e della virilità guerriera e le pratiche di indottrinamento e la retorica hanno lasciato un solco profondo nell'immaginario del periodo. Ancora oggi è difficile immaginare il fascismo senza il contorno di armi, divise e passo cadenzato. Per capire quanto di questo spirito militare sia stato sincero o artefatto e quanta responsabilità di questa immagine vada data al condottiero Mussolini o non piuttosto al suo apparato di propaganda potrebbe essere utile ripercorrere alcuni episodi delle avventure militari fasciste. Quindi fate attenzione a quello che ci dice Filippi. Il primo banco di prova di questa volontà di potenza fu la Libia che praticamente nei primi anni venti era ancora un territorio da pacificare perché solo la fascia costiera e i principali porti erano in mano italiana. L'entroterra era ancora controllato dalle popolazioni locali, dalle popolazioni arabe e berbere. E anche in questo caso l'opportunità offerta alla propaganda fascista fu davvero ghiotta perché appena salito al potere il fascismo decise di fare della Libia il simbolo della nascita di un nuovo modo di intendere il ruolo del governo nel plasmare corpi e menti dei cittadini. Per Mussolini l'italiano nuovo significava soprattutto un soldato nuovo, più tenace, più aggressivo, persino più crudele, che si inserisse degnamente nel mito della romanità e che facesse dimenticare le mediocri o pessime prestazioni di cui aveva dato provi per anni l'italietta liberale, la tanto disprezzata italietta liberale. Fu quindi all'insegna di un nuovo modo di condurre la guerra aggressivo e feroce che il fascismo intraprese la cosiddetta riconquista della Libia. In più ondate i soldati italiani si spinsero nel territorio desertico che circondava le città della costa cercando di imporre la supremazia delle armi fasciste. Era una lotta impari perché da una parte c'erano i ribelli senussi con lo schioppone e dall'altra c'erano cannoni, mortai, mitragliatrici, autoblinde, lanciafiamme e quant'altro. La propaganda del regime non mancò di ammantare di romantico senso di esotica conquista quello che agli effetti fu un tentativo di genocidio delle popolazioni del deserto. È sufficiente notare come la guerra alle bande di guerriglieri isolati e disorganizzati si protrasse per circa una decina d'anni e fu dichiarata conclusa solo nel 1931 e solo al prezzo di violenze e soprusi sulla popolazione civile. Non esattamente un esempio di efficienza e capacità guerriera per le armi italiane ma piuttosto una dimostrazione di quanto poco avveduta e pensata fosse all'epoca la politica coloniale del paese. Tra l'altro pacificazione e normalizzazione del controllo territoriale non coincisero molte zone e rimasero sotto sostanziale occupazione militare per tutto il periodo coloniale. Allora la colonia invece la Somalia non aveva mai dato particolari problemi e c'era un sostanziale equilibrio tra gli interessi dei concessionari agricoli italiani e le spinte di autonomia dei sultanati locali. Tra il 1923 e il 1928 la colonia fu messa a ferro e fuoco da Cesare De Vecchi di Val Cismon con una sorta di guerriglia portata avanti in stile squadrista che costò molto cara alle casse dello Stato e al contempo inimicò agli italiani le popolazioni residenti. In pratica ci tirammo le martellate nei coglioni da soli e debbe come unico scopo quello di far guadagnare fama di condottiero al gerarca torinese De Vecchi di Val Cismon. Dovrò farci un video prima o poi perché De Vecchi di Val Cismon era veramente un imbecille, un pericoloso, uno spaventoso, un infausto imbecille, ma ne parlerò in una prossima volta. Allora, quando nel 1935 De Vecchi di Val Cismon diventò una celebrità e dimostrando, cioè dando via ai personalismi e al progressapochismo che caratterizzarono tutte le avventure militari fasciste. Allora, nel 1935 ci fu la conquista dell'Etiopia. La guerra venne portata avanti con un impiego di mezzi elevatissimo. L'investimento in immagine era straordinario e si voleva una grande affermazione di prestigio da accogliere subito e i vertici del fascismo erano ben consci dei rischi di veder mancare l'obiettivo della conquista di un impero, quello etiope, che era stato depinto come una sorta di relitto barbarico che si opponeva alla rinata civiltà di Roma. Furono circa 330.000 i militari mandati a combattere in Etiopia nel 1935, cifra che salì fino a 560.000 durante la guerra, con l'invio sul campo di 3 milioni di tonnellate di armamenti e materiali. Le casse dello Stato vennero prosciugate per fornire alle truppe tutte le tecnologie belliche disponibili, comprese, come ben sappiamo, le armi chimiche come l'iprite e le arsine. Molti gerarchi partirono per quell'avventura che sembrava promettere facili glorie. Si imbarcarono nella guerra anche Bruno e Vittorio Mussolini, i figli del Duce, con Galeazzo Ciano, suo genero. Tutti e tre, peraltro, fecero la campagna nell'aviazione sui bombardieri, un modo più sicuro di altri di fare la guerra contro un paese totalmente o quasi privo di velivoli e armi contraeree. La gloria, facile gloria, vabbè, 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 vabbè. Nel corso dei sette mesi di campagna militare vera e propria vennero violate sistematicamente le norme della Convenzione di Ginevra sui civili e sui prigionieri di guerra e si applicò la teoria del terrore sulle popolazioni. Non solo, ma per impedire che le strutture internazionali dessero aiuto agli Etiopi o testimoniassero le atrocità italiane, venne addirittura per la prima volta nella storia bombardata la Croce Rossa. Sì, i primi a sparare sulla Croce Rossa fummo noi italiani in Etiopi. La fretta di proclamare la vittoria portò a dichiarare conclusa la campagna con la conquista di Addis Abeba, anche se una gran parte del territorio rimaneva fuori dal controllo italiano. In realtà non si ebbe mai l'assoggettamento di tutto l'impero del Negus e il potere italiano si fermò lì dove stazionavano le armi italiane. Cominciò così una occupazione feroce e costosissima che prese i connotati della guerriglia con l'arrivo del maresciallo Rodolfo Graziani, già noto con l'appellativo di macellaio del Fezzan, che applicò il terrore anche alla pacificazione di quelle popolazioni. Graziani era il prodotto più eclatante dell'apparato militare fascista. Ufficiale superiore ai tempi della marcia su Roma, si affrettò a giurare fedeltà al fascismo quando fu chiaro che il fascismo avrebbe conquistato il potere. Si distinse oltre che per la propria ferocia anche per una certa abilità nel districarsi tra le beghe politiche per rimanere aggrappato al potere. Fu Graziani il principale responsabile dei massacri compiuti dagli italiani nelle colonie negli anni Trenta. La guerra civile in Spagna, quello che doveva essere un appoggio esterno al generale golpista Francisco Franco, divenne in breve tempo un impegno militare vero e proprio. Ma non andò molto bene perché, come ben sapete, 8 marzo 1937 la disfatta di Gadalahara. Quattro divisioni armate di tutto punto, 40.000 uomini che rappresentavano il meglio che potesse schierare l'ideologia al potere, furono malamente battuti dai repubblicani e ad aggravare lo smacco contribuì il fatto che i fascisti italiani vennero fermati anche dal battaglione Garibaldi, formato da antifascisti italiani che erano andati in Spagna a difendere la Repubblica. Come sottolinea Angelo Del Boccoa, fu un colpo molto duro per Mussolini. Non solo i suoi nuovi italiani forgiati dal regime erano stati clamorosamente battuti, ma alla loro clamorosa sconfitta avevano contribuito altri italiani che non avevano frequentato il sabato fascista. Eh, signori, allora che vi posso dire? Maggiori fortune ebbe l'aviazione che una volta avuta la meglio sulla debole aeronautica repubblicana grazie all'aiuto tedesco si mise ad applicare le tecniche di terrore già provate in Libia, Somalia ed Etiopia. Tecniche del terrore del potere aereo messe appunto dal generale Giulio Due. Ok? Le città repubblicane furono bombardate con il preciso intento di seminare il panico nelle retrovie del fronte antifascista, trascurando gli obiettivi militari per concentrarsi su quelli civili. Però i barbari erano gli americani e gli inglesi che ci bombardarono qualche anno dopo, ma vabbè, vabbè. Il più eclatante per il numero di morti, quasi un migliaio, e per le reazioni di sdegno internazionale fu il raid durato tre giorni, ordinato direttamente da Mussolini su Barcellona dal 16 al 18 marzo 1938. Sì, Mussolini ordinò direttamente il raid dei nostri bombardieri su Barcellona, un raid che causò, a seconda dei resoconti, dai 600 ai 1300 morti civili. L'aviazione fascista prese parte anche al tristemente celebre bombardamento della cittadina basca di Guernica, che fece più di 200 morti tra la popolazione e che ispirò il capolavoro di Picasso. La Spagna viene raccontata come un'impresa di prestigio del regime, ma anche se il risultato fu quello di un enorme buco nel bilancio statale, è una macchia per quello che una volta si sarebbe chiamato onore delle armi italiane. E quando la situazione precipitò, mentre c'era la Germania che mieteva successi internazionali, lo smembramento della Cecoslovacchia, l'annessione dell'Austria, l'Italia fascista con un'economia zoppicante e le forze militari esauste e disperse in più teatri di guerra, risultò complesso e difficile, persino il colpo di mano con cui si procedette all'occupazione dell'Albania, Albania che pure era già praticamente un protettorato italiano e in cui una fetta della della società albanese aveva intenzione di favorire l'annessione. Come disse Ciano, se gli albanesi avessero avuto un corpo efficiente di vigili del fuoco ci avrebbero sbattuti a mare. Vabbè. Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, le forze armate erano talmente esaurite che Mussolini a malincuore dovette rinunciare a entrare da subito in guerra accanto alla Germania. Allora, il Duce fu costretto a proclamare una neutralità di facciata, definita con un neologismo apposito non belligeranza. In pratica il regime che per vent'anni aveva detto di attendere con ansia il decisivo scontro di civiltà tra la nuova ideologia fascista e le vecchie democrazie liberali, si trovò a dover ammettere nel momento fatidico di non essere preparato. Insomma, signori, basterebbe questo a certificare lo spaventoso fallimento del regime, la non belligeranza perché non eravamo pronti, o meglio perché c'eravamo magnati anche gli occhi per piangere. Continuiamo un attimo. Erano stati trascurati troppi aspetti organizzativi e si fecero molte, troppe scelte sbagliate. La Marina assorbì una fetta consistente del bilancio militare fascista, per espressa volontà del Duce si concentrò sulla costruzione delle corazzate, navi prestigiose dalla potenza di fuoco smisurata, ottimo simbolo propagandistico di potenza militare, e tecnologica, anche se all'epoca era già diffusa la convinzione che in mare il futuro degli scontri navali si sarebbe risolto grazie all'impiego degli aerei. La Marina italiana, seguendo la volontà del Duce, rimase fedele alle teorie navali ottocentesche. Ah, tra l'altro, per approfondire l'argomento della Marina italiana durante il fascismo, vi consiglio l'ottimo libro di Fabio De Ninno, Fascisti sul mare, di cui ho fatto la recensione l'anno scorso, di cui ho fatto la recensione sì, circa un anno fa. Mi raccomando, trovatelo e leggetelo, Fascisti sul mare di Fabio De Ninno, a proposito della Marina e a proposito di quello che accadde nella Marina durante il ventennio. Allora, mentre il resto dei paesi con grande flotte militari costruiva portaerei, l'Italia spese quantità di denaro enormi per navi obsolete, obsolete che tra l'altro consumavano troppo per una nazione senza petrolio ed erano troppo preziose per essere sprecate per fare quello che poi fu effettivamente il solo compito della Marina per tutta la Seconda Guerra Mondiale, cercare di garantire i rifornimenti alla Libia. Giorgio Giorgerini, la guerra italiana sul mare. Ok. L'apparato militare era esausto, ma anche mal guidato. Aver condotto per vent'anni una politica clientelare, piazzando nei posti di potere individui il cui solo merito era la cieca fedeltà, portò ad avere in posizioni chiave persone incapaci o, alla meglio, inesperte. Anche gli armamenti erano obsoleti e di scarsa qualità, a causa della corruzione diffusa accanto attorno all'affare delle forniture belliche. Il clientelismo delle forze armate. Volete un consiglio? Recuperatevi il libro del professor Giovanni Cecini intitolato I Generali di Mussolini. Ok? E avrete un'idea dei personaggi che riempivano il nostro establishment militare. Ripeto, Giovanni Cecini, I Generali di Mussolini. Ne ho fatto la recensione circa un paio d'anni fa. Cercatelo nella timeline del canale e guardatevi la recensione che ne avevo fatto. Allora, la fretta di Hitler poi fece precipitare tutto. Solo una lettura davvero imbarazzante della situazione geopolitica internazionale portò Mussolini a schierare un paese che sapeva, e Mussolini sapeva, essere estremamente impreparato dalla parte di quello che sembrava in quel momento il vincitore. Un atteggiamento deprecabile e in più controproducente. Dalla dichiarazione di guerra del 40 in poi fu tutto un rincorrere, un prestigio che sfuggiva e un tentare di riparare a umiliazioni sempre più cocenti. Dalla dichiarazione di guerra del 40 in poi fu tutto un rincorrere, un prestigio che sfuggiva e un tentare di riparare a umiliazioni sempre più cocenti. La campagna di Francia che in pochissimo tempo diede subito la misura della nostra impreparazione e della criminale incapacità dei comandi italiani. In pochi giorni gli italiani non riuscirono a sfondare il fronte ed ebbero 1.258 morti, i francesi 20. Eh, che vi devo dire. Esempio emblematico del modo di pensare alla guerra del condottiero Mussolini fu il tentativo di portare avanti una cosiddetta guerra parallela a quella dei tedeschi con l'apertura del fronte balcanico. L'aggressione alla Grecia fu dovuta alla volontà del regime di imporre una propria iniziativa militare che potesse dimostrare capacità offensive autonome rispetto ai tedeschi. Fu un fiasco colossale che di fatto mise fine alle pretese italiane di fare la guerra senza i tedeschi. Preparata in fretta e male senza uno scopo se non quello di accumulare vittorie sul campo. Accumulare vittorie sul campo tipo la Juventus forse, vabbè, vabbè, scusate, 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 gli scudetti sul campo, la matematica giuventina. Dicevo, preparata in fretta e male senza uno scopo se non quello di accumulare vittorie sul campo, la campagna di Grecia dimostrò quanto poco credibili fossero i proclami del fascismo sulla forza militare italiana. La differenza tra forma e sostanza, tra l'apparenza e la dura, pesante e cruda realtà oggettiva dei fatti. Tutto qua. Quest'ultima, la forza militare italiana, era già stata messa in difficoltà durante prove che sulla carta dovevano essere di facile soluzione, come quelle in Etiopia contro un esercito considerato primitivo e in Spagna contro le forze spesso composte da volontari repubblicani. Quando si trattò di confrontarsi con un esercito regolare, anche se di modesta entità come quello greco, la struttura offensiva fascista fu umiliata. La catena di comando si rivelò inadeguata, i quadri intermedi confusi, i soldati demotivati e malissimo equipaggiati. Venti anni di fascismo non avevano affatto costruito un nuovo spirito guerriero negli italiani, che alla prova dei fatti si dimostrarono indegni di una tradizione militare che nel bene o nel male aveva vinto la grande guerra. La conduzione del conflitto ebbe poi una serie di paradossali inciampi che sconfinarono nell'ingenuità. Ad esempio, dopo aver passato anni a impiccare berberi e arabi per aver ragione della loro resistenza, in piena guerra Mussolini provò a chiamare i musulmani alla guerra santa contro gli inglesi in Nord Africa, ricevendone in cambio sarcasmi, pernacchi e agguati alle piste carovaniere. Sbagliate furono anche le scelte strategiche. Insistere a voler combattere una guerra contro i sovietici con un corpo d'armata, anche se lo stesso alto comando tedesco aveva declinato l'offerta di un corpo di spedizione italiano, ne fu un esempio lampante. La forza di attacco italiana inviata in Russia fu distolta da altri fronti di guerra ben più vicini e mandata allo sbaraglio senza materiali adeguati. Quella che doveva essere la gloriosa crociata anti-bolshevica si risolse in un vergognoso massacro delle nostre truppe. Di questo disastro il Duce può essere considerato uno dei principali responsabili. Non si trattò solo di una colpevole incuria negli approvvigionamenti o nella scelta di gerarchie militari inette, che pure ci furono. Mussolini dichiarò più volte di contare su una rivoluzione antropologica che avrebbe dovuto trasformare il popolo italiano in un popolo di guerrieri e conquistatori. Un concetto di sé piuttosto umiliante per una società vista solo come massa da plasmare e che comunque, ai fatti, non funzionò minimamente. Gli italiani non compresero il senso della guerra fascista, se mai ce ne fu uno. Già, le guerre fasciste ebbero mai un senso? Pensiamoci bene. E di questo il Duce si lamentò più volte ferocemente. Quando i fallimenti divennero evidenti e non mascherabili, la reazione del capo del regime fu quella di ritenere gli italiani un popolo di deboli indegni del destino che lui aveva apparecchiato per loro. Una lettura ingenerosa visto il modo in cui Mussolini aveva preparato il futuro al suo popolo e soprattutto estremamente autoassolutoria. Se il compito storico del condottiero, del Duce, era quello di condurre il proprio popolo preparandolo alle sfide e alla grandezza come vagheggiato dalle iperbole fasciste che tutt'oggi sono la base di una certa narrativa nostalgica dei tempi in cui l'Italia era rispettata, Mussolini e il fascismo non fecero nulla di tutto ciò. L'Italia che affrontava la seconda guerra mondiale aveva un tessuto sociale logorato dalla politica di potenza che non aveva portato alcun vantaggio. Un apparato economico e militare impreparato allo scontro è già esausto per le troppe avventure azzardate e soprattutto non si comprendevano le motivazioni con cui si era scesi in guerra. Il dissolversi così repentino e improvviso di un regime ventennale nell'estate del 43 può essere spiegato anche come la grande disillusione di fronte a un sistema narrativo di carta pesta che aveva retto per una generazione solo perché troppo pochi avevano avuto il coraggio di dire che il re anzi il duce era nudo. Questo capitolo dell'opera di Francesco Filippi è a dir poco illuminante sulle manchevolezze di Mussolini tra virgolette condottiero. Mussolini, ripeto, io uso sempre una metafora che ha creato l'amico Fabiano Fava. Mussolini militarmente fu un incompetente che si circondò volutamente di incapaci. Mussolini credeva di essere un capo, credeva di essere uno stratega, voleva essere un capo e uno stratega ma non lo fu mai perché rimase sempre e comunque caporale nell'anima. Che vi devo dire? Insomma, signori, ripeto, questo libro di Francesco Filippi, Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, ci spiega con poche breve e caustiche parole il fallimento di Mussolini come uomo, come militare, come condottiero, come capo militare. La sua incapacità, la sua incompetenza, la sua totale e assoluta incapacità di comprendere che la guerra è una cosa seria. Per Mussolini contava la conquista, per Mussolini contava il bottino, per Mussolini conquistare terreno la famosa frase, perché conquistata l'Etiopia potremmo parlare con l'Inghilterra da impero a impero. Ve lo immaginate? Salve, sono l'impero britannico, ciao impero italiano. sconsolante, ma è così. Ripeto, signori, il duce condottiero, i suoi limiti, le sue cantonate, la sua incapacità militare, Francesco Filippi. Quindi, cari signori, come sempre, ripeto, aspetto nei commenti a questo video le vostre considerazioni, le vostre correzioni, le vostre aggiunte a quanto ho detto usando le parole di Francesco Filippi a proposito del duce come condottiero, stratega e capo militare. Il libro, ripeto, è estremamente chiaro in proposito. Adesso, signori, tocca a voi. Aspetto i vostri commenti. Quindi, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!